come solamente ok questo è stato reidratato alle 11 alle 10 10 quindi un pochino che di un'ora fa è già ripreso l'attività normalmente vedete questi sono secchi fermi senza nessuna attività basta aggiungere bastano così per anni 10 anni 20 anni dopodiché dopo che mettiamo dell'acqua utilizziamo un'acqua a temperatura di 40 gradi per accendere i processi inizia a battere il cuore non so se avrete visto poco fa e poi piano piano dopo un'ora riprendono pienamente vita vedete saluto